Prosegue con Pinerolo il nostro viaggio nei comuni del territorio metropolitano, che dal 13 al 23 gennaio saranno protagonisti dei Fisu Games di Torino 2025. Ai piedi delle montagne e due passi dalla pianura, Pinerolo ha una forte tradizione sportiva. La città, già protagonista dei giochi olimpici invernali Torino 2006, torna alla ribalta in vista dell'importante evento sportivo di gennaio, quando nel palazzetto del ghiaccio si disputeranno le qualificazioni maschili di hockey, così come ci spiega il sindaco Luca Salvai. Noi abbiamo iniziato un percorso sulle università che parte abbastanza da lontano, abbiamo iniziato a lavorare più di un anno fa ormai, avanzando la nostra candidatura sostanzialmente perché la città di Pinerolo conta due strutture del ghiaccio. Questa, che è l'impianto principale, un impianto olimpico che è stato realizzato prima delle Olimpiadi del 2006 e che ha ospitato due dentro le gare olimpiche del curling. E poi è rimasta sempre in relazione al curling un'altra struttura che all'epoca era la struttura di allenamento. Oggi possiamo dire che è un impianto, è l'unico impianto in Italia che può contare tre piste per giocare, perché gli altri ne contano soltanto due. L'anno scorso, proprio in questo stadio, abbiamo ospitato i campionati italiani di figura, che è stato un momento molto bello e anche a detta della federazione, raramente hanno visto impianti sportivi così pieni. Ecco, loro erano molto contenti, l'impianto sportivo era pieno a metà. Questo dà contezza delle potenzialità veramente che ha questo impianto, che purtroppo non sempre riusciamo a sfruttare al meglio. Quindi l'evento universiadi, per quello che mi riguarda, deve servire prevalentemente a questo, a promuovere l'impianto, anche perché poi l'anno dopo ci saranno le olimpiadi. Io non credo che nessuna gara arrivi in Piemonte, a Torino e men che meno a Pinerolo, però comunque sia la speranza è che l'impianto di Pinerolo si noti anche a febbraio 2026 e che qualcuno in ogni caso possa soffrirne. L'investimento è un investimento importante, è un investimento da 700.000 euro, dove verranno cambiate tutte quante le baraustre, quindi baraustre nuove perché queste sono ormai vecchie anche per le omologazioni dei campi e per fare le partite ai massimi livelli non andavano bene. Ci saranno le strutture che permettono anche lo sleigh hockey, quindi un occhio anche sempre come tradizione di questa città e mi sento di dire di questo territorio, perché a Torre Pelli c'è la stessa cosa, quindi sarà un impianto che sarà disponibile anche per tutto quello che è il mondo della disabilità, quindi per le gare di sleigh hockey e per quello che eventualmente si vorrà mettere in campo negli anni a venire. Un investimento importante, un investimento che resterà e che viene effettuato, devo dire, con un contributo modesto da parte del Comune, perché i denari li ha messi in fondazione 20 marzo nell'ambito ancora di quello che è il tesoretto olimpico, quindi questo sostanzialmente il Comune ha poi cofinanziato per una cifra bassa rispetto a quella che era l'entità dei lavori. Quindi questo è sicuramente il lavoro più importante, ma l'altro grande investimento era l'investimento delle luci, perché come potete vedere ce ne erano tante bruciate e le stiamo cambiando, e anche questo è un investimento che sembra di cambiare due lampadine, cambiare due lampadine qua dentro significa spendere 100 mila euro sostanzialmente. È un impianto che dal punto di vista energetico è messo meglio rispetto ad altre realtà in Italia, nel senso che ci sono 400 kilowatt di potenza nominale di impianto fotovoltaico installato fuori sul parcheggio, che fa scambio direttamente con la struttura e quindi questo aiuta a mitigare quella che è la spesa energetica. L'altro investimento che stiamo mettendo in pista è quello della rigommatura di tutti gli spazi, perché come potete vedere ormai la gommatura è vecchia, è un po' vetusta, quindi cambieremo anche quello, e per quello che riguarda il palazzetto del ghiaccio ci fermiamo qua. Il grosso investimento di manutenzione straordinaria che c'è ancora da fare e che renderebbe il palazzetto di nuovo utilizzabile per qualunque genere di evento, anche un evento olimpico, è cambiare il sistema, le cosiddette UTA, quindi cambiare il sistema di ricircolo dell'aglia, che è l'investimento che abbiamo rimandato, perché non ce lo facciamo fare tutte, perché ci sono altri 14 impianti sportivi da gestire in città, quindi non è banale, però questo è l'altro investimento che vorremmo poi sul medio periodo riuscire a mettere in campo.